Hai premuto il pulsante? Sì, sì. Stiamo in diretta? Sì. Vai, grande. Alessandro Bello e Cattivo Tempo, Barbara Mazzoni e siamo qui al Teatro L'Accento e oggi faremo la Mimo Intervista. Perfetto. Allora, tu sei capace a indovinare? Sì. Sì. Allora, il titolo è questo, guardami bene. Allora. Tu? Sì. Tu. Tu. Tu e tu. Tu. Sì. Io. Tu. Tu. Ehm. Ma che è? No, scusa. La chiappa. Ma no, la chiappa. Allora. Ma dai. Ma no, come me la dai. Senti, Alessandro. Ma scusa. Che so. Accendi. Ma questa? Che cos'è questa? Che cos'è questa? Questo è un portachiave. Ma no, è questa? Che cos'è questa? La chiave. Allora. Ok, tu. Tu. E con le chiavi. Bravo. Accendi la macchina. Tu. Tu con le chiavi mandi i baci. No. Tu con le chiavi sputi. Ma no. Senti, Alessandro. Tu. Sei una frana. Posso parlare io? Posso fare io? Ma io mi sto impegnato, però. No, perché putum, 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 cos'è? Putum, putum. È una macchina che va in salita. No, guarda. Putum, 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 putum. Ah, il seno. Ma no. Mi sono fatta al seno. Ma non mi sono fatta al seno. No. No, me lo rifarò in futuro. Però, no. Senti, Alessandro, posso? Mettiti qua. Vabbè, ok. Stami un tempista. A te è piaciuto, sì. Allora. Mettiti più alto. Sì, attento al mio divano. Sei più alto tu, in effetti, di me. Allora, il titolo è semplice, semplice, anche perché l'ho mimato benissimo, la grande attrice. Sì. E, sì, qui mi dicono, fanno gesti, così, in consulta. L'ho mimato. Sì. Solo tu hai le chiavi del tuo putum, 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 cuore. Ah, sì, aspetta. Io quindi so quello che non è capace? Sì. Sì, me ne vado. Se continuate che interviste, me ne vado. Io sono stata brevissima. Ma come continuate che interviste? Allora, solo tu hai le chiavi del tuo cuore. Dunque, è un monologo, brillante, comico, divertente. Brillante e divertente. Comico non lo so. E praticamente è uno scorcio di società dove si intravede la contraddizione dell'essere umano. Questo attaccamento al nitilismo e la ricerca ad una felicità amorosa. Bello? No, però sì. Stupendo. Senti, ma quando c'è? Che io vengo subito. Allora, finisce domenica, quindi 22, 23 e 24. Il 22 e il 23 alle 21 di sera. Il 24 alle 18 del pomeriggio, che è domenica. Ok. Poi che devo dire. Basta che ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Ci siamo. Venite, venite. Tutum, 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 tutum. Sarebbe capito quello che ho detto? Sarebbe capito quello che ho detto.